Un'enorme pietra spezzata e divisa in due luoghi della città. Nei giardini di Rocca Costanza, cuore del centro storico, e all'esterno della biblioteca di quartiere Villa Fastigi, luogo d'attenzione dei progetti e dei workshop dello scultore Paolo Icaro, che con Meteorite Gemello dà vita al secondo dei 13 episodi di cui si compone il progetto di dossier di Pesero 2024 dalle sculture nella città all'arte della comunità. Noi nella condivisione, che è stato il concetto iniziale, abbiamo sentito il bisogno di trovare una unità da condividere. E come facevamo a condividerla? Spezzandola come un pane, tagliandola. Abbiamo trovato questa unità in un rappresentante della natura, che è questo bolide di 10 tonnellate di porfido verde, non lavorato dall'uomo ma trovato nella natura, e questo porfido verde l'abbiamo tagliato per poterlo condividere. Quindi si taglia per unire. Questo è stato il concetto di base. E così è rimasto la testimonianza della pietra, è solo che la pietra non lavorata dall'uomo è il momento della natura, il taglio invece, che rivela l'interno, la struttura interna di questo bellissimo porfido, è la parte dell'uomo che ha la volontà di vedere l'interno, di capire meglio, e quindi rivela una faccia interna che guarda l'altra faccia gemellare tra Rocca Costanza e Villa Fastigi, si crea quindi uno sguardo fra questi due momenti della pietra e diciamo che tutto ciò che manca in questa opera l'ha messa il poeta Gianni Delia, perché ha dedicato a questa pietra una poesia le cui due rime, diciamo due versi significativi sono stati scolpiti da me sotto la pietra in maniera che le parole non lette ma passate quasi come un piccolo bisbiglio orale di persona in persona, venga ricordata non tanto la parte esterna della parola ma la parte interna, quindi quella che si ricorda piuttosto che si pronuncia, quindi a me è piaciuto molto scolpirle sotto a questo grande macigno e sotto si conservano scolpite, protette come radici quasi culturali proprio.